Triplo Racing Podcast consecutivo per parlare della gara del moto mondiale che si è svolta a Portimao domenica scorsa, voi invece lo vedrete mercoledì alle 19 per vari motivi, sapete che sono stato a Immol a vedere dal vivo il Gran Premio di Formula 1 e quindi vi invito come al solito a recuperare il vlog e sapete che ieri è uscito il podcast invece sulla Superbike Gran Premio di Assen, qui parliamo invece del Gran Premio di Portogallo del moto mondiale, quindi categoria prototipi, quinto appuntamento stagionale con di fatto ancora una volta un ribaltamento delle situazioni. Con Fabio Quartarro che di fatto domina e scherza gli avversari nel GP del Portogallo e torna a vincere con un passo gara veramente impressionante dopo aver già stabilito fin dai primi giri chi era l'uomo da battere, il francese saluta la compagnia e se ne va di fatto lasciando scannare gli altri, in particolare la Suzuki, la Ducati di Sarko, la Ducati di Miller fino a quando c'era in gara e anche l'Apriglia che ancora una volta è tornata competitiva. Quartarro torna a vincere e per via del fatto che questo campionato è decisamente tanto equilibrato il francese è ancora una volta leader del campionato del mondo o meglio per la prima volta quest'anno. Vero il margine è molto poco come vedremo nella classifica tra poco ma comunque questa è una prova di forza incredibile per un Quartarro che fino alle prime gare extracontinentali sembrava veramente l'ombra di se stesso. Appena arrivati in Europa su un tracciato che evidentemente Quartarro gradisce di più si è visto come questo pilota sia veramente una spanna sopra in questo contesto del Portogallo logicamente. L'Aima invece è tutto forché la moto migliore e lo si è visto ancora una volta oggi. Quartarro comunque fa una gara veramente alla orga Lorenzo dei bei tempi ovvero prende saluta e se ne va e lascia veramente spazio agli altri che si giocheranno il podio. Un podio che peraltro vede una doppietta francese quindi possiamo dire che suona la marsigliese sia per Quartarro sia per Johan Zarco che fa una grandiosa gara e la completa in seconda posizione. Terzo è l'esce Spargaro sull'Aprilia che di conseguenza dimostra ancora una volta di non essere un totale bluff dopo la vittoria che l'ha visto protagonista in Argentina. Secondo podio stagione per il pilota con la carena numero 41 al netto che secondo me i protagonisti per il podio erano sicuramente altri e qui ci riferiamo a Jack Miller e a Juan Mir. Questo è il motivo per il quale Juan Mir e Jack Miller non sono finiti a podio. Jack Miller compie a sette giri dalla fine una staccata veramente da paura in tutti i sensi. La sbaglia, parliamo ovviamente di curva 1, tenta un attacco suicida mi verrebbe da dire all'interno su Mir e centra il pilota spagnolo, campione del mondo del 2020. Miller e Mir si stendono e di fatto dicono addio alle speranze di podio e di conseguenza spazio per quella l'esce Spargaro che è vero stava rimontando e quindi avrebbe potuto giocarsela probabilmente per il bronzo di gara ma è evidente come questo incidente ha privato probabilmente in una lotta a tre per il podio perché Zarko poi comunque ha dimostrato di averne comunque di più sia di Miller sia di Mir in questo contesto. Quindi alle sce Spargaro è vero che avrebbe potuto giocarsela per il podio ma deve ringraziare prevalentemente Jack Miller per questo attacco suicida e di conseguenza questo non è un bellissimo viatico per un pilota che in Ducati Ufficiale è messo in discussione anche già quest'anno. Ducati Ufficiale che peraltro ha fatto molta fatica viste le premesse con un Marc Marquez che non è di certo il pilota dominante che fu un tempo con tantissimo equilibrio è ovvio che la Ducati Ufficiale doveva e può far sicuramente di più e di certo non può raccogliere alla prima gara europea un ritirato e un bagnaia che è vero che è malmesso ma che è finito evidentemente dopo la musica. La Ducati doveva e poteva raccogliere di più nelle quattro gare precedenti e sicuramente è una grossa delusione così come invece non lo è di certo l'Apriglia che appunto completa il podio con Alec Spargaro che di conseguenza ha tutti i motivi per essere contento. È comunque un campionato di MotoGP assolutamente equilibrato e incerto e questo è incredibile perché è da anni che non si vedeva veramente tanto equilibrio. L'unico campionato magari un po' paragonabile con molte file di virgolette in tempi recenti è il campionato 2020 ma era stagione corta per via del covid e non c'era Marquez che si è infundato di fatto alla prima gara ed in conseguenza il mondiale si è deciso a due gare dalla fine. Qui potrebbe essere la stessa cosa ma qua parliamo evidentemente di un mondiale vero. Un mondiale vero che appunto conta di 21 gare e qui abbiamo esaurito la quinta con Quartarro che praticamente per sbaglio si ritrova leader del campionato seppure ex equo con Alex Rins a 69 punti. Il bronzo di gara è Aleix Spargerow che appunto come dicevo anche lì è a 66 punti quindi è un pilota che è ancora ampiamente in lotta per un campionato MotoGP che a tratti ricordo una Moto3 gigantesca perché nella Moto3 dei bei tempi c'erano tantissimi vincitori diversi in tante gare diverse la MotoGP invece storicamente è sempre stata o con un pilota dominatore o con un duello o al massimo tre piloti che si potevano giocare ma qui ogni gara veramente cambia qualunque cosa. Johan Zarco invece conquista il suo secondo podio su cinque gare e sale a 51 punti. Anche il francese è autoreperito nel momento di una buonissima stagione appunto anche al di fuori dell'Europa a differenza magari di altri piloti che abbiamo visto in difficoltà. Jack Miller l'abbiamo detto è vero fa podio nella gara precedente a Austin Texas ma qua si ritira per un errore scellerato e vedremo che prenazione ci sarà nella prossima gara di Barcellona e abbiamo poi anche un Francesco Bagnaia che è vero finisce ottavo ma che evidentemente qui va abbastanza giustificato perché ha avuto una cauta terrificante nelle prove libere 3, non ha fatto le qualificazioni e partiva ventiquattresimo di conseguenza è logico aspettarsi una rimonta. Un Bagnaia invece con una posizione di partenza più avanzata secondo me avrebbe potuto attentare a qualcosa di più però Bagnaia comunque con una moto del genere e con la pressione che c'è addosso sicuramente deve puntare a non essere decimo in classifica ma quantomeno nei primi due o tre posti del campionato del mondo, un campionato del mondo che comunque rimane tanto equilibrato perché di fatto fino al quinto o sesto posto sono ancora tutti ampiamente in gioco e siamo soltanto di fatto neanche un terzo di mondiale. Le altre posizioni per quanto riguarda la gara di Portimaula andiamo a recapitolare con Alex Rins che appunto beneficiando anche della caduta di Miller e Mir appunto tiene il legno di gara ma comunque è il primo exequo nel mondiale pur non avendo mai vinto una gara in pieno stile Suzuki come il mondiale di Mir. Quinto è Miguel Oliveira il pilota di casa comunque mette una KTM nelle prime cinque posizioni segno anche di tante case diverse nelle prime cinque posizioni e questo è sicuramente un bene per tutto il moto mondiale. Sesto è Marc Marquez che ha lottato con un sorprendente Alex Marquez che sicuramente ha fatto una gara clamorosa vista la potenzialità non proprio esaltante della onda del team di Lucio Cecchinello. Ottava posizione appunto Bagnaia l'abbiamo detto prima. Nono è finito Paul Spargarò con una onda che su questa pista evidentemente si è ritrovata e ne piazza addirittura tre nelle prime dieci posizioni chiude appunto la top ten Maverick Vignales signor che anche lui con questa apriglia sta sicuramente trovando la quadra in un ruolo comunque di secondo pilota perché il primo è clamorosamente Alex Spargarò. Gli altri italiani abbiamo visto un Luca Marini dodicesimo che comunque ha fatto una gara abbastanza anonima e anche lui in parte beneficia della caduta di Marquez o meglio di Miller e di Mir. Franco Morbidelli tredicesimo Iden con patate undicesimo Andrea Dovizioso che comunque con la YMA del team RNF fa veramente quel che può e altri italiani appunti di fatto non ne abbiamo perché Bastonini si è ritirato per caduta, Di Gian Antonio si è ritirato per caduta e Lorenzo Salvadori da wildcard in questa gara di Portimao si è ritirato. E ancora una volta un buongiorno per dire che comunque è un buon mondiale da vedere pur essendo appunto una MotoGP e non magari una Superbike che io prediligo di più è un mondiale incredibile per certi punti di vista perché non mi ricordo che in 5 gara ci fossero 5 leader diversi o meglio 4 perché Bastonini è stato leader due volte. Bastonini che comunque ripeto anche qui secondo me è un buongiorno per dire che secondo me il best di Rimini non sarà un po' intendente al mondiale un po' per i mezzi inferiori che ha e un po' perché ci sono molte scuderie che sono partite handicap vedi per esempio una Ducati ufficiale che mi aspetto possa tornare di colpi. Secondo me il treno per vincere il mondiale è già perso anche quest'anno lo dico da tifoso Ducati però di certo la Ducati deve e può assolutamente riscattarsi per quanto riguarda le squadre ufficiali è clamoroso che invece le Ducati semi ufficiali di Zarko e Martina fino a quando era in gara vanno meglio le Ducati ufficiali e le Ducati private come quella di Bastonini vadano meglio evidentemente di Bagnaia e di Miller segno che in questo caso è il pilota che ci mette veramente del suo di conseguenza salutiamo la MotoGP ma temporaneamente perché si correrà già questa settimana e parliamo di domenica primo maggio per il camperemo di Spagna a Rez della Frontera e qui ovviamente ci sarà invece il Racing Podcast dedicato in diretta e non tre giorni dopo visto la grandiosa contemporaneità dei calendari tra FIA e FIM che veramente deve essere assolutamente rivista e sono buono. Parliamo delle altre categorie quindi Moto2 e Moto3 e parliamo di quello che è stato il grande episodio della Moto2 in una gara clamorosa che si è divisa in due parti una gara 1 che si è interrotta per questa maxi caduta che si è verificata in curva 2 a Portimao visto che la Moto2 ha corso dopo la MotoGP per questa volta e le condizioni sono cambiate è venuto un temporale che si è abbattuto sull'autodromo dell'Algarve e di conseguenza 10 piloti sono caduti tutti i piloti peraltro di test e di conseguenza c'è spazio per grandi risultati e il grande risultato è quello del pilota statunitense Joe Roberts del team Italtrans che conquista la prima vittoria della carriera in una gara 2 veramente stranissima perché da 30 piloti iscritti della Moto2 sono riusciti a ripartire in 18 e arrivati al traguardo in 15 di conseguenza tutti i piloti che vedremo nella classifica di Wikipedia inglese sono arrivati a punti di conseguenza avremo tanti risultati poetici e in particolare anche la vittoria di Joe Roberts è molto poetica perché il pilota statunitense non ha mai vinto in carriera e vince in condizioni peraltro molto adatte allo studio di guidare il pilota con la carriera numero 16 una condizione di asciutto misto bagnato dove appunto Roberts ha dato veramente la pista agli avversari per il numero 16 dunque suona The Star Spargel Banner per un pilota che si rilancia e va incredibilmente al quarto posto in una classifica del Mondiale Moto2 che però è appunto falsata dal fatto che i primi 10 della classifica generale di fatto eccetera fatta per Vietti e Navarro si sono di fatto tutti ritirati ed è clamoroso come appunto l'unico che si è rimasto in piedi di podio di testa è appunto Celestino Vietti che con più culo che anima mi verrebbe da dire nonostante sia un italiano veramente salva un podio insperato incredibile per come è maturato e di fatto allunga in un Mondiale Moto2 dove era già lui di fatto il pilota da battere nelle prime gare abbiamo visto che era così quarto podio in 5 gari questo veramente insperato e in 90 punti totali il più diretto in seguitore è Ayogura che è stato coinvolto nella maxi caduta clamorosa insieme a Canet, Chantra, Arbolino, Lowe's, Dixon, Augusto Fernandez tutta gente che era nelle primissime posizioni e si poteva tranquillamente lottare evidentemente la vittoria anche Canet era l'uomo probabilmente più indicato per vincere questa gara ma ovviamente la sfortuna del campo delle condizioni evidentemente ha inciso e non poco terza posizione per Orca e Navarro per il compagno di squadra di quel Canet che probabilmente la gara l'avrebbe anche vinta, Navarro comunque è un buonissimo pilota dunque attenzione evidentemente al rilancio del numero 9 le altre posizioni sono qualcosa di clamoroso abbiamo punti per il rookie Jeremy Alcoba del team Dynavolt abbiamo punti per Bobbensneider olandese che di fatto è vero che sta crescendo tanto ma fino all'anno scorso era di fatto una mera e propria comparsa punti per il rookie terribile o meglio ex rookie terribile Fermin Aldeguer per quinto Manuel González pilota che viene di fatto catapultato in posizioni che contano dalla Supersport 300 dove peraltro è stato campione di categoria e ha fatto un anno scorso in 600 dove ha fatto qualche podio qui nono Barry Baltus che di fatto esordisce in queste due gare perché la prima si è ritirato l'altra si è infortunato punti per Romano Fenati Alessandro Zaccone i primi punti della carriera qualcosa di incredibile punti per Sean Di Lanchelli compagno di squadra peraltro di Joe Roberts punti per Fenati che in qualche modo salva una decima posizione con la seconda delle boss scuro anche qui punti veramente inspirati come Celestino Vietti punti addirittura per il tailandese Kemit Kubo che appunto è compagno di squadra di González nel secondo team di Valentino Rossi oltre a direzionale VR46 insomma una classifica poetica ma in tutto questo per dire che Vietti allunga sempre più e il cuscinetto è veramente importante già a cinque gare di fatto consumate Moto3 che invece non ha scossone di questo tipo ma vede una grandosa gara di Sergio García che dunque vince ancora una volta su Gas Gas in un trionfo per di fatto il marchio KTM perché sul podio ci sono tre sottomarchi evidentemente del gruppo austriaco uno in realtà è la KTM ufficiale gli altri due sono Gas Gas che vince appunto con Sergio García per il quale suona la marcia reale e il secondo è Luskwarna perché il podio è completato da Ayumu Sasaki appunto terzo e Aome Masià secondo su Red Bull KTM Io per Masià è appunto il secondo podio consecutivo e dunque attenzione per il rilancio del pilota spagnolo il leader del mondiale adesso è Sergio García che appunto guadagna tantissimi punti su Foggia e dunque per il momento di giustezza lo spagnolo ha un punto di vantaggio sul pilota romano che comunque ha fatto ottavo in una gara dove peraltro i piloti italiani non hanno brillato perché il migliore è Andrea Migno settimo appunto poi abbiamo Dennis Foggia ottavo e poi appunti anche Riccardo Rossi undicesimo è una buonissima stagione comunque per il pilota della squadra di Paolo Simoncelli e ultimo tenere da punti se non sbaglio è stato Stefano Nepa quindicesimo con il team MTA team di Alessandro Tonucci all'esordio è un mondiale Moto3 comunque tutt'altro che chiuso così come potrebbe essere quello della Moto2 che non è chiuso ma diciamo che è fortemente indirizzato i mondiali più interessanti saranno sicuramente MotoGP e Moto3 dove c'è tantissimo equilibrio a 5 gare della fine per la Moto3 ripeto è normale avere questo tipo di equilibrio perché le gare della Moto3 sono sempre un macello con tantissimi piloti che si giocano la vittoria a tutte le gare la MotoGP non dovrebbe essere così dovrebbe essere una cosa simile alla Superbike di adesso dove ci sono tre grandi piloti con tre grandi case e invece abbiamo un equilibrio anche lì per un mondiale MotoGP che ripeto tornerà questa settimana in Spagna si correrà domenica primo maggio a Jerez della Frontera in questo caso ci sarà invece il Recent Podcast alle 19 e non di fatto tre giorni dopo al mercoledì gli altri Recent Podcast mentre vi lascio con la chiusura della MotoGP prima di concludere il video saranno poi i seguenti si parlerà sabato 30 aprile o al massimo di due dei playoff NHL e poi avrà luogo la seconda parte della MLB Review di aprile perché si esaurisce il primo mese di regola del season del meraviglioso gioco del baseball e anche qui dunque bisognerà parlarne dunque anche qui tanti Recent Podcast tanto carne al fuoco per il canale sportivo e di conseguenza rimanete sempre attenzioni dati sul canale sportivo che offre sempre contenuti nuovi ogni settimana fatemi sapere cosa ne pensate intanto di questo di Recent Podcast per quanto riguarda la MotoGP e saluto da parte di Matteo Thorgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti